Da quando a Cana il matrimonio diventò luogo di incontro con il Signore, ogni uomo è chiamato a portare nel mondo quel vino, simbolo di un amore nuovo e rigenerato. Nella vita coniugale Dio manifesta la propria misericordia capovolgendo l'ordine delle cose rispetto al quotidiano. A questo mistero della salvezza il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II ha dedicato recentemente l'incontro Il Matrimonio, cardine dell'economia sacramentaria, per riflettere su come le nozze, il linguaggio del corpo degli sposi e il sacramento stesso del matrimonio illuminino l'intero percorso di crescita di ogni individuo dando forma alla vita sociale. Ogni sacramento appare simile ad un riflesso di questa intima unione tra gli sposi, santa quanto il legame tra Cristo e la Chiesa, come ci spiega Suor Alexandra Di Riart, docente di sacramentaria al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II. Il battesimo per esempio si dice anche con il linguaggio dell'amore, Cristo che sposa l'umanità, che sposa l'anima del fedele, che lo genera anche. Dunque troviamo sempre il linguaggio dell'amore, il linguaggio della maternità, il linguaggio del generare che ci dice che cose sono i sacramenti. L'eucharistia è stata sempre anche vista dai padri della Chiesa come, non so, il bacio nuziale, come la consumazione nuziale. Dunque c'è un linguaggio del corpo concreto che ci parla di Dio e del modo in cui Dio ama l'umanità. La Chiesa è famiglia di famiglie, si legge nell'esortazione post-sinodale a Moris Letizia, costantemente arricchita dalla vita di tutte le Chiese domestiche. Il Vangelo del matrimonio dunque parla al cuore del mondo, perché l'amore vissuto in famiglia è una forza permanente per la vita della Chiesa. Con noi, padre José Granados, vicepreside della sede centrale del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II. Diciamo che la famiglia è la via della Chiesa. Continua un po' a essere, appare questo testo nell'esortazione. Nella famiglia la Chiesa si gioca al futuro perché si gioca appunto queste esperienze originarie che gli permettono di evangelizzare la cultura. Se cade la famiglia cade il linguaggio stesso della fede. Penso che questo si vede con forza come un dire dobbiamo prendersi cura della famiglia per portare nella famiglia il Vangelo. Questa mi sembra che è la grande preoccupazione, come ha detto al rientro del video di Intra Santa, portare Cristo alle famiglie. L'amore nel matrimonio genera così uno spazio sacro in cui la differenza non produce disuguaglianza, dove il più debole non viene escluso e ci si apre alla vita. Ancora suora Alexandra di Riart. Perché c'è un linguaggio dell'amore che alla fine è il linguaggio umano, basico, di cui tutti abbiamo sette, che uno sia cristiano o non cristiano, penso che ha sette di questo amore. Perché la Chiesa è un tesoro che è sconosciuto, che magari è ancora troppo lontano e penso che tutto lo sforzo di Papa Francesco è di, come dire, avvicinare questo tesoro per renderlo una cosa concreta nella vita di tutti i fedeli e anche degli altri.